Ciao a tutti! Anche oggi voglio mostrarvi la realizzazione di questo modello di orecchini molto semplici, fatti con la tecnica su TAS e alcune perle in ceramica che mi sono state fornite da 6 da Giamma diverso tempo fa. Per fare la parte superiore degli orecchini utilizzerò una perla di vetro cerato da 12 mm blu e due perle di lapislazzolo da 6 mm. Utilizzerò questa volta della piattina di color bordeaux che riprende il colore della goccia di ceramica che utilizzerò per la parte inferiore dell'orecchino. La provenienza della piattina è sempre di vet perles. Per prendere la misura della piattina occorrente che utilizzerò mettendola doppia ho preso la misura andandola a sagomare intorno alla perla centrale simulando i due riccioli laterali. A questo punto ho fatto un nodino alla fine del mio filo, ho visto qual è il centro delle mie piattine dove dovrà andare a finire la perla da 12 mm. Mi sono spostata un pochino sulla destra e vado a fissare da questa parte il mio filo. A questo punto andrò a far passare il filo all'interno della perla e bucherò le piattine nella scanalatura dalla parte opposta della foratura della perla dando una curvatura. State attenti a dare questa curvatura e fate in modo che non sia né troppo lunga la distanza tra i due punti né troppo corta ma che abbracci perfettamente la perla come vedete in queste immagini. A questo punto ho dato un piccolo punto, scusate la ripetizione e sono passata dall'altro lato della perla. Ho ripetuto la stessa operazione per una terza volta, quindi ago e filo passano all'interno della mia perla per tre volte. Poi sono andata a creare un punto da uno dei due lati delle piattine, dall'ultimo da cui sono fuoriuscita e sono andata avanti nella lunghezza delle piattine per avere la lunghezza sufficiente per poterle poi andare a congiungere per abbracciare completamente la perla. Quindi ho fatto alcuni punti che vanno ad abbracciare tutte e quattro le piattine, passano quindi nella scanalatura mediana di tutte e quattro le piattine. Se nel primo punto vedete che rimangono ancora distanti, non vi preoccupate perché man mano dando gli altri punti che vanno da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, la lavorazione si andrà a stringere. Dove rimane comunque un piccolissimo triangolino vuoto tra le due coppie di piattine, io vado a inserire un cristallo da 4 mm di colore dorato. Io adesso sto utilizzando dei cristalli a forma di cipollotto, ma potete benissimo utilizzare dei cristalli svaroschi o delle rocaie da 8. Potete sfruttare qualsiasi tipo di perlina piccola che abbiate a disposizione. Adesso vado da uno dei due lati della mia lavorazione e vado a inserire nel lago una delle perle in lapislazzolo da 6 mm. Quindi do la curvatura alle piattine e vado a bucare dall'altro lato, dall'altra parte della foratura della mia perla da 6 mm. Per andare così ad abbracciare anche questa perla. Ripasso con l'ago dando un piccolo punto all'interno delle piattine, sempre nella parte della scanalatura, all'interno della perla e vado a bloccare le piattine nel retro della lavorazione, sempre passando nel punto mediano e facendo in modo che abbraccino perfettamente la mia perla da 6 mm. Quindi per una maggiore sicurezza per bloccare meglio la perla, vado a ripassare più volte all'interno del foro della perla e all'interno delle piattine. E come ultimo passaggio andrò poi a bloccare le piattine nel retro della lavorazione, andandole a cucire insieme alle piattine precedenti, facendo dei punti che le scavalcano, quindi che creino un cappio intorno a queste piattine e anche dei punti che passino all'interno delle piattine per fare in modo che non sfuggano dal mio cappio. E ripeto i punti fin quando è necessario, cioè fin quando vedo che la perla è ben saldata alla lavorazione. Poi dovrò ripetere gli stessi passaggi e fissare in modo identico l'altra perla dall'altro lato della lavorazione. E con queste piattine piuttosto rigide, come ho detto anche in altri video, si lavora piuttosto bene, quindi non si hanno grandi problemi di asimmetria. Se lavorate con piattine più morbide, magari fate più attenzione, perché tendendo a slittare di più poteste trovarvi con una perlina un po' più alta e una un po' più bassa. Invece per fare questo tipo di orecchini occorre che la lavorazione sia proprio simmetrica, identica. Sono andata come al solito a tagliare la parte di piattine in eccesso sul retro della lavorazione e a mettere una punta di colla, come al solito è la colla artiglio di colore giallo, potete utilizzare meglio ancora quella di colore trasparente oppure la colla asulite. Poi sono poi riuscita con l'ago all'interno, al centro, tra le due perle inserite e ho messo una sequenza di perle che mi creano il pendente, una rocaille 11.0 dorata, un cristallo, una coppetta filigrana che si adattava perfettamente alla perla in ceramica di saída e poi ancora un cristallo nella parte inferiore per bloccare la goccia di ceramica. Sono ripassata all'interno di tutti questi componenti ad esclusione del cristallo inferiore che mi serve appunto a bloccare la lavorazione, ho tirato bene il mio filo e sono andata a fare 3 o 4 nodi sul retro della lavorazione e poi sono ripassata all'interno di tutte quante le perle, ho ribloccato il mio pendente due volte e ho creato ancora dei nodi. Poi mi sono portata con il filo sul lato della perla centrale, la prima che avevo inserito e ho iniziato a creare una serie di picot a tre perline con le rocaille 11.0. Per creare questi picot, come vedete, ho fatto passare il filo nelle due piattine, ho inserito due rocaille 15.0, quindi sono ripassata all'interno delle due piattine nel retro della lavorazione, poi sono tornata indietro per un pezzettino e ho fatto ripassare il filo nelle due piattine e nella prima delle due rocaille inserite. Ho inserito la mia terza rocaille che mi va a creare la punta e poi sono ripassata nella seconda delle due rocaille che avevo inserito al passaggio precedente. Sono ripassata all'interno delle due piattine e sono tornata nel retro della lavorazione e ho proseguito così tutto intorno alla mia perla ad esclusione della parte centrale, proprio in corrispondenza appunto del centro della perla, dove invece di fare un picot ho fatto un archetto con cinque rocaille perché mi servirà per inserire la monachella. Vi sto facendo rivedere gli stessi passaggi del picot, si inseriscono prima due rocaille, poi si ripassa nel retro della lavorazione all'interno delle piattine e della prima rocaille, si inserisce la terza rocaille che mi dà la punta e si ripassa nella seconda rocaille e nel retro della lavorazione. Anche questa è una decorazione di base del sutage, è una decorazione molto molto semplice e la possono fare veramente tutti quanti. Questo è l'archetto che ho creato nella parte superiore del mio orecchino, vado ad aprire il gancio della monachella, lo inserisco nel mio archetto e vado a richiuderlo. In questo modo ho quasi terminato il mio orecchino, mi manca solo di rifinire la parte posteriore. Per rifinire la parte posteriore andrò a mettere delle gocce di pelle e io le ho già tagliate prima prendendo un pochino le misure, ma potete anche farle un po' più grandi e andare a rifilare la misura dopo averle applicate sull'orecchino con delle forbicine piccoline. Poi ho messo la colla su tutta la parte retro dell'orecchino e sono andata a fissare le mie gocce di pelle e così anche questo paio di orecchini sono veramente terminati, a me piacciono molto e sto facendo una serie di questi video semplici del SUTASH in cui faccio vedere come realizzare degli orecchini, ma potete sfruttare benissimo queste decorazioni per fare dei componenti di un bracciale o di una collana o di un ciondolo anche. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, io adesso vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao ciao!